eccoci ciao monica benvenuti questa la sessione di michela ciao 5 4 3 1 michela si presenta con in mano un cartello stradale che è quello di divieto d'accesso e lo vorrebbe utilizzare per mantenere lontane da sé certe persone e certi ricordi ti dà l'autorizzazione si dicendomi che non è per noi questo non è riferito a noi e dice sì assolutamente iniziamo bene iniziamo questo viaggio ci dia un'immagine e quella che io le ho accennato c'è questo babbo natale molto classico che arriva con questo canticchiando do bello felice con questo sacco gonfio dovrebbe contenere i doni però appena apre il sacco anziché uscire i doni uscire i doni dal sacco escono proprio delle fiammate di fuoco e vanno come a incendiare tutto l'ambiente circostante ok michela vibrazione 15 miliardi consapevolezza 153 ps 42 1806 cervello 9 e mezzo suscettibilità ipnotica 44 va bene forse non sarà tanto in grado di andare in ipnosi michela perché serve un 40 44 poco sopra ma i valori sono buoni molto in gamba michela vive all'estero vive felice ha una vita se vogliamo semplice ma pagante e appagata entità eteriche un leone che vedo che cammina nel deserto come se la volesse seguire un po' dappertutto no? quindi adesso mi fa vedere che sta camminando nel deserto che sarà un po' una delle sue prossime tappe no? allora vuole darmi questa immagine qui un'amantide e un come si dice un granchio tipo arancione fluorescente questo del secondo universo 2DL la ragione fluorescente è che cosa ci dice? come dato? è come se si volesse far vedere molto bene non vuole passare inosservato è come un qualcosa che all'improvviso pizzica e produce infiammazione mentali io ne vedo due uno è cestino della spazzatura e l'altro è fragilità emotiva e cestino della spazzatura allora dipende molto dai momenti dipende dalle circostanze in passato ha raggiunto dei livelli molto molto elevati lei ha avuto a che fare con delle persone anche molto tossiche che riversavano su di lei le proprie frustrazioni le proprie lamentele lei assorbiva tutto quanto e ovviamente ne rimaneva turbata ne rimaneva sporcata ne rimaneva anche molto stressata quindi in passato io vedo che ha raggiunto anche dei livelli tipo 7-8 al momento presente secondo me oscilla fra 3-4 da 8 a 4 diciamo sì sì l'altra che è la fragilità emotiva allora c'è da un lato una parte di Michela molto forte molto combattiva e trasformativa non vuole assolutamente arrendersi non vuole lasciarsi scivolare nella tristezza o nel vittimismo però dall'altra è come se quest'entità mentale le dicesse in alcune circostanze le ricordasse che lei non è così forte emotivamente che lei ha ancora fa finta sì fa finta sì 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 e in realtà è molto debole ah non debole è molto debole quindi una una che si inganna una che si se la racconta di essere forte se la racconta e dà un'immagine di sé questa è un'entità mentale anche questa dipende molto dai momenti perché lei a volte proprio non l'ascolta allora è al livello uno due in altri momenti di in cui si collega per esempio al proprio progetto quando questa entità mentale riesce a alimentare il suo progetto diventa anche a livello cinque e adesso è quindi lì è un po' fluttuante ma mediamente io direi tre ok quando era in Italia quanto stava questa se c'era prima questa è la sua seconda sessione prima della sua prima sessione lei ha avuto fasi alterne nella vita quindi lei ha avuto dei periodi molto stressanti e duri in cui questa riusciva a avere pieno spazio e andava anche oltre il cinque questa fragilità emotiva e questa questa convinzione che lei non fosse abbastanza forte va bene impianti vediamoli allora io vedo guarda mi viene quasi come se lei adesso noi l'abbiamo vista con i capelli lisci no però da un punto di vista eterico lei ha i capelli ricci ed è come se cercassero sopra questi ricci di posizionarle una specie di scotch ok ed è questo il suo impianto mentale attraverso cui far arrivare gli impulsi per rafforzare ovviamente le entità mentali poi ho visto due tipo scotch sotto gli occhi che è un po' come un volerla fare piangere e allo stesso tempo farle trattenere le lacrime e poi sopra le ginocchia con una analoga azione cioè da un lato farle venire tanta voglia di spostarsi e di viaggiare dall'altra in alcuni momenti scoraggiarla basta sì sì va bene abbiamo subito la cosa più curiosa ma forse meno importante è capitato un paio di volte ascoltando le sessioni con le cuffie a letto la sera da sola in un paio di volte ha sentito una presenza accanto come lo dà come sua mamma che non c'è più immagino vero Michele no no non c'è più però è come se adesso io non so in quale sessione lei l'ha collegata e se effettivamente si parlava di qualche madre o sua madre in qualche modo si è sentita attratta da qualcosa legato alla sessione può darsi legata alla sessione o anche legato a un'emozione che aveva scaturito una particolare emozione diciamo così in Michela che ha attirato la mamma che in quel momento o per la sessione o per fatti suoi aveva aveva in testa Michela sì sì la chiamiamo come la riparazione di un frammento credo che ci siano stati in generale nella vita di Michela delle cose come lasciate tra virgolette in sospeso non comprese fino in fondo come peraltro è per ognuno di noi ed era come se la madre volesse creare questo ponte ricongiungere questo frammento ricucirlo la chiamiamo intanto apriamo un importantissimo più che mai portale aureo faccio un po' fatica a capire perché mi si presenta così nel senso che la vedo molto gonfia l'immagine che lei mi propone che penso sia legata alla vita ok non all'immagine attuale perché spesso ho notato che i disincarnati mi fanno vedere come una foto della loro vita non di quella che è la loro condizione attuale e quello che mi fa vedere lei è molto gonfia quasi con proprio tanta ritenzione idrica per dirti che fa fatica a muoversi a spostarsi e mi fa vedere intorno tipo delle bottiglie vuote sul verde sembrava che contenessero del vino prima come se lei forse abbia dovuto anche lei in qualche modo all'interno di questa cultura in cui c'erano persone che bevevano intorno a lei sì assolutamente questa l'abbiamo già analizzata è l'entità mentale diciamo collettiva del paese da cui viene Michela posso dire quale? Michela posso dire Romagna sì vino l'entità mentale collettiva vino e in company molto bene chiamiamo il figlio sempre per la questione che vengono con una foto che è un'istantanea ok che non è la loro condizione attuale va bene mi vogliono solo magari indicare una parte significativa della loro vita lui è venuto proprio con una siringa esce dal portale o arriva da altre parti non lo so nel senso che se io vedo già questo flash ok non ho visto onestamente non ho visto una luce dal portale arrivare qua e perciò che io penso che mi sta dando proprio un riferimento di quando era nella vita non è un qualcosa che ancora gli appartiene mi ha fatto vedere lui con le occhiaie profonde proprio gli occhi solcati dalle occhiaie e questa siringa qui chiamiamo anche il primo marito di Michele padre di questo figlio stesso discorso ok l'istantanea quindi non perché sia ancora legata a questo aspetto è venuto proprio con il classico fiasco di vino che si usava una volta parzialmente impagliato quasi sotto braccio padre e figlio che fanno non sono non si sono praticamente conosciuti soprattutto il figlio il padre perché aveva due anni quando il padre mancò è molto interessante perché avviene questa immagine un po' simbolica il figlio mette la siringa all'interno del fiasco quindi all'interno della bottiglia e il padre getta via in un portale definitivo questa bottiglia e dopo questo si abbracciano come li vedi abbracciati come persone energie o altro è un un mix delle due cose perché è come se non li vedessi più con delle sembianze umane ma sembrano quasi due omini fluorescenti bianco fluorescenti il figlio è proprio bianco azzurro fluorescente il padre più giallo fluorescente che tendono a fondersi in un'unica luce e la madre che fa all'inizio sembra quasi non riconoscere loro come parte della famiglia questo senso così un po' di dire chi sono questi due perché è come se allora vediamo se riesco a spiegarmi bene come se lei volesse ancora per un po' proporre questa immagine qua della sua grande fatica della vita ok perché credo che lei si sia sentita molto sola è come se volesse dire a Michela che era in cerca di compagnia e che Michela può averlo percepito che stava cercando compagnia non è facile da spiegare perché è come se ci fosse un'alternanza fra la consapevolezza che lei ha raggiunto adesso e invece la forte carica di tristezza e di solitudine che lei ha provato nella vita e quindi è come se a volte quella parte lì avesse bisogno di risanarla attraverso la forza di Michela cosa vuole dire la madre prima le diamo una vic se la prende sentiamo cosa dice la madre di Michela ha la figlia sì e nel momento in cui la prende è come se ritornasse alla consapevolezza di anima che è già morta da un po' di anni e dice finalmente sono leggera non ho più quel corpo così pesante non ho più tutto quel carico da sopportare vorrei far sentire a te questa leggerezza vorrei farla vivere a te questa leggerezza è per questo che mi appoggio con così tanta leggerezza alle tue spalle ed è come se fosse quasi un uccellino un uccellino che si appoggia con le zampette insomma quindi quasi senza peso no sulla spalla di Michela destra o sinistra viene destra va bene c'è qualcun altro che si presenta come disincarnato rispetto a questi tre oltre a questi tre da solo qualcosa tipo nonno un nonno paterno prova a dire un materno vediamo che differenza c'è un materno paterno allora paterno sì paterno hai cappello è vestito all'antica sì 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 esatto sembra quasi anche un po' impolverato cappello nero vestiti marroni marrone nero bravo nero con l'attesa marrone il cappello e idem sì vedi nuovo medium cosa dice il nonno alla paterno è detto quindi no alla madre no alla nipote Michela è stato un bagno di lacrime di sangue questa famiglia allora chiedemolo al nonno di chiamare tutti i parenti morti della famiglia di Michela anche del ramo materno sì forse vengono anche legati al primo marito persone morte nella famiglia del primo marito essendo lui presente in questo momento sì diciamo che effettivamente riconosco questa cosa me la mostrano proprio questo bagno di lacrime di sangue c'è qualcuno addirittura che sputa sangue no che potrebbe essere assolutamente simbolico però per dire la grande sofferenza no avuta in vita tutta la famiglia vuol dire tutto quindi anche tutta la famiglia del primo marito tutta la famiglia del secondo marito tutta la famiglia del terzo attuale marito visto che primo marito è stato male secondo marito posso dire che non lo vedo cioè mi dà come se lui io non so se loro abbiano ancora contati mi dà come se proprio non fosse fuori adesso dalla sfera d'azione sì non c'è più come una comunicazione capisci allora non riesco a raggiungere per il primo marito invece sì parenti primo marito sì quanti sono in totale perché prima mi ha dato 112 poi però è passata 318 si vede che insomma si è diffusa la voce il richiamo andiamo avanti ancora di più diciamo l'immagine del sei pazzetti di carta fatti con un foglio piegato che si tengono per mano ecco ognuno tiene per mano un altro ed è una grande vergogna non trovare nessuno da prendere per mano quindi tutti sono chiamati a trovare una persona poiché siano in Romania parte la gara sì sì si crea proprio questa catena mani 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 una restringe l'altra 891 solo è così adesso mi viene così la catena si interrompe è come se si fosse messa alla fine di questa catena è una signora molto molto anziana un po' quasi con le sembianze non so come dirti da strega che dice adesso ci fermiamo qui e chi è questo questo qua allora ovviamente io parlo da un punto di vista eterico hai presente che adesso c'è questo cartello di Santa Claus Santa Claus stop here no e lei mette questo cartello infilato e dice stop here come dire adesso qua basta in questo in questo senso è lei che sembra una Befana in un certo senso chi la vuole tenere tra il popolo rumeno alza la mano chi la vuole buttare in un portale definitivo la butta in un portale definitivo Michela ovviamente la la vuole buttare e qualcuno invece come se la temesse è un'anima questa vecchia no allora non ci neanche da temere perché non c'è non esiste è virtuale aria programma dati bit 0101 la catena riparte sì o no sì che riparte certo sempre più veloce sempre più veloce mano a mano che gli omini si aggiungono vanno tutti nel portale definitivo l'apertura è sufficientemente grande per accogliere la madre che se vuole va e lascia un messaggio finale a Michela siamo delle piume e viaggiano come tu stai decidendo di viaggiare continua a viaggiare impara ad essere piuma ed è così che volteggia proprio come se fosse una piuma e si dirige volteggiando dentro il portale definitivo scusami dentro il portale Aure Aure benissimo nel portale definitivo c'era andata la strega il primo marito messaggio e lo salutiamo vedo che è ormai a braccetto con il figlio cioè hanno l'uno il braccio sulla spalla dell'altro a modo nostro ti abbiamo voluto bene ora te ne vogliamo infinitamente di più il primo marito e il figlio è come corale questo questo messaggio il figlio è come se da un lato come essere umano si dispiace di tutto quello che ha fatto vivere alla madre dall'altra visto che lui ormai è in un'altra dimensione in un altro tipo di consapevolezza adesso io lo sento qua penso che sto dicendo interpretando bene le sue parole le ricorda quando prima di venire qui loro si sono messi d'accordo di questa tragedia perché quanto siamo contorti quando veniamo in terra per comprendere che cos'è l'amore ok e la casa la casa è come se mi avesse fatto vedere che a volte pensa che ha lasciato dei lavori indietro che doveva finire delle cose che la madre magari avrebbe avuto piacere che fossero fatte ancora alcune cose non lo vedo affettivamente particolarmente legato alla casa in sé ma a questo fatto qui di ecco di un dispiacere ulteriore che non voleva dare alla mamma di non aver portato a termine tutto quanto ma è presente in quella casa? allora è come se ogni tanto venisse quell'impulso a completare un certo lavoro adesso per esempio mi sta facendo vedere tipo una porta non so se doveva fare qualche lavoro alla porta una maniglia una serratura non lo so è come se magari doveva ancora finire delle cose ecco e ogni tanto gli venisse questo input questo ricordo però la sensazione che mi trasmette è fai quello che vuoi di quella casa va bene lo salutiamo un abbraccio con la mamma è come se la volesse abbracciare da dietro da davanti io vedo che all'orecchio lui le sussurra scusa ti chiedo scusa da una parte quindi da un orecchio le dico scusa e dall'altro orecchio gli dice ricorda l'abbiamo deciso insieme è doppio o triplo molto bella questa immagine lo salutiamo io mi indica quanto stanno ancora entrando un bel respiro salutiamo andato è come se fosse sulla soglia a vedere questa contributo che la mamma ha dato ed è come se ce li contasse lui e dice sono 25.000 la chiudiamo qui ok lo chiudiamo questa volta il portale aureo si chiude con una nota quale sol 10 lo teniamo in sottofondo questo sol 10 e andiamo alla casa c'è vicino un corso d'acqua non so sì sì aspetta una scusa sì sì tranquilla tranquilla aspetta facciamo anche spero che non mi dicano non mi blocchino aspetta un attimo voglio sentire come il sol di esist aspetta troppo pubblicità non riesco a trovare un soldi Esis non sono così ferrato da fartelo con la voce fammelo tu Monica assolutamente no cantaci tutta la canzone il soldi ma anche io va bene andiamo alla casa che Michela non riesce a vendere è indecisa quando torna lì se non vuole andare arrivano dei ricordi sensazioni strane mi fa vedere che quando lei va lì si rinforza il suo progetto che si chiama proprio album dei ricordi ed è come se questo album dei ricordi venisse sfogliato in maniera molto accelerata e poi si fermasse quasi un'eternità magari su alcune pagine su alcune foto e quindi è come se le desse anche una sensazione di confusione di tempo e di spazio non riesce più ad avere delle coordinate non riesce più a comprendere qual è l'azione giusta in che direzione si deve muovere rispetto a quella casa quali sono le tempistiche che potrebbe scegliere ci sono dei disincarnati sì dimmi però per esempio anche se si tratta solamente di supporti ok quindi noi potenzialmente non abbiamo bisogno di niente però nel nostro percorso diciamo così di consapevolezza e di totale autonomia ci avvaliamo di supporti che ci aiutano in alcuni momenti per per alleggerire l'energia vedo che lei non ha fatto una pulizia energetica della casa e se la fa per esempio lei qua mi fa vedere molto molto facile e semplice la salvia bianca facile facile spieghiamo come si fa white sage si può compare anche su internet è la salvia degli indiani d'america diciamo salvia bianca white sage sage di così dopo la francese sa g e è un rotolino chiuso da una cordina si brucia giusto monica finestre chiuse porte chiuse e si passa in tutta la casa soprattutto negli angoli nelle zone buie eccetera un bel fumone se ci sono dei vicini che chiamano i pompieri li si avverte prima che non è così e poi uno se ne va per un'ora tutto chiuso poi torna e apre tutto rimane un po' di odore che peraltro io trovo molto buono si dice che chi trova questo odore fastidioso ha qualche problema o è pieno zeppo di questioni non proprio pulite e rimane questo odore per due giorni forse poi scompare si butta via tutto il fumo e la casa effettivamente sa di diverso questo lo puoi fare anche di dove abiti se vuoi forse lì è più difficile reperirlo se vuoi farlo in Italia in Italia qualunque negozio di olistica pallo santo cristalli incensi ce l'ha quasi sicuramente giusto? perfettamente perché è come se le desse proprio poi una chiarezza nel prendere una decisione è proprio anche un senso di respiro ecco andando lì si sente più tranquilla non dominata da quella casa ok ma è lei che domina la casa e decide che cosa farne bene facciamolo già adesso in eterico facciamo tutto quello che ci pare in eterico facciamo anche questo lavoro lo fa anzi Michela si crea con le mani la sua salvia mi fa vedere una scala non so se c'è anche una scala come se avesse bisogno di fare questa cosa in questa scala sotto scala non ho capito se sopra scala sotto scala c'è una scala Michela sì ok c'è che va sotto anche c'è un basement che va sopra c'è un solaio o un secondo piano anche un solaio e un secondo piano ok le scale per qualche ragione lei parte dalle scale ecco le fa con molta minuzia soprattutto dove girano mi fa vedere un punto in cui girano quindi l'angolo lì gli scalini proprio passa e poi proprio come se ci fosse qualcuno che passa ecco sulle scale e lei fa lo segue no? fa lo stesso tragitto con la sua salvia bianca in mano quindi lo lo butta fuori come dire con questo gesto lo libera ecco diciamo così e poi tipo come se entrasse forse ci sono diverse stanze perché mi fa vedere che entra e esce dalle stanze cinque ok e sì perché c'è proprio questo bisogno di passare dentro la stanza chiudere la porta ecco questa è una cosa che adesso noi facciamo in eterico se lei lo fa ogni volta chiuda la porta entra nella stanza fa questo passaggio con la salvia e chiude la porta e così via per ogni stanza e mi fa vedere anche la cucina fa bene il bagno ottimo anche una specie di lavanderia sembra mi pare mi sembra questo bene questo questo gesto eterico ha degli effetti già adesso allora mi fa vedere qua il petto come se si fosse liberato un pezzo del suo cuore che era in quel momento occluso appesantito e questo è quella parte del cuore che può anche farle venire un'intuizione e una scelta importante quale no non lo so che la scelta che farà è quella giusta quindi non deve ripeterlo dal vero questo trattamento allora può ripeterlo dal vero oppure rifarlo lei da sola in eterico ancora una volta cioè in realtà mi dice tre volte quindi magari lo farà altre due volte da sola in eterico va bene con queste condizioni la casa riuscirà a venderla finalmente con decisione su questa cosa io non capisco perché vedo un cartello vendesi affittasi e non riesco a capire lei che cosa sceglierà o se tipo parte con un'idea e poi la cambia perché vedo entrambi i cartelli però non la vedo più statica così è priva di decisione e non la vedo più fonte di dolore di vecchi ricordi di cose irrisolte anche se penso che si concluderà col vendesi può essere cinema terzo marito vicini o amici del posto in cui vive e tutti quelli che vogliono vedere effettivamente sembra proprio che portino un'aria di di festa di convivialità come se portassero tipo del pane non è proprio il nostro pane un tipo di pane come se volessero già preparare il banchetto per dopo una sorta di festeggiamento insieme a Michela e tutti loro ma è anche il marito è fumatore perché mi viene tipo come se fosse con un bastoncino di liquirizia in bocca allora è un invito a lei perché lui viene con un bastoncino di liquirizia in bocca no? sai di quelli che si utilizzano per i non fumatori no? e non capisco se è un rimprovero verso di lei un invito sai? sì 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 sembra che lui voglia farla smettere no? ecco sì sì quindi questo era il vecchio perché molti non lo sapranno questo era il vecchio metodo per avere qualcosa in bocca e avere più o meno un gesto simile si utilizzava il bastoncino di legno di liquirizia peraltro decisamente introvabile oggi e pressioni alte ma vizi eh già eh ma vabbè che poi pressione alte ma che se farà qualcosina ma niente di che e il vizio sparito ok e quindi allora c'è il marito mi hai detto e? e questi amici però in realtà potrebbero anche essere semplicemente persone di quartiere cose del genere pronti così già al festeggiamento dopo appunto con questo pane con questi dolcini sono già pronti per la festa sì per fare la festa a Michela che sembra che la vogliano far fuori no non in quel senso no no non in quel senso bene causa esoterica nonostante l'amore per i viaggi del fatto che Michela quando deve fare un viaggio deve fare una valigia e questo le provoca fastidio disagio nervosismo quella è proprio l'entità mentale fragilità emotiva no che le vuol far credere che non è vero che lei ha veramente così tutto quanto sotto controllo che anzi questi viaggi non le fanno così bene la stressano insomma un po' per autosabotarla e un po' per farle vedere che lei tutto questo equilibrio emotivo non ce l'ha altrimenti farebbe la valigia in tutta serenità con grande organizzazione ma è semplicemente un'entità mentale ottimo apre portali crea ad eternum e si sente bene assolutamente infatti abbiamo visto che il suo cervello in partenza era già nove e mezzo perché lei pratica molto si esercita in continuazione e lo fa in maniera efficace quanti ne ha fatti quanti portali ha aperto che tu vedi lei ha cercato molto in qualche modo di ripulire il suo passato e poi giustamente noi siamo uno quindi è giusto che in qualche modo ci sosteniamo a vicenda in questo cammino quindi lei ha fatto moltissimo e aveva bisogno diciamo anche di questa cesellatura da parte nostra però lei già vedo che decine e decine di portali definitivi li aveva aperti per buttare via tutta una serie di emozioni legate a esperienze molto pesanti va bene che altro cosa vuole fare Michela qual è la causa esoterica del suo vizio del fumo allora qua me lo chiama tipo un ancoraggio familiare una cosa del genere come se di fatto diciamo che nella sua famiglia chiamiamola famiglia anche estesa ci siano stati molti vizi vari ed è come in un certo senso rimanere agganciata in un aspetto sicuramente tossico alla famiglia e capisci che è un legame un po' ambivalente perché come quasi non poter scegliere un elemento positivo per rimanere agganciata alla famiglia ma sceglierne uno negativo perché forse gli elementi positivi erano anche molto pochi proviamo alle crea portali crei un portale davanti a sé piatto cioè orizzontale come se fosse un lavandino diciamo definitivo proprio l'idea del lavandino il lavandino poi sotto al soffione sotto ne crea un altro piccolo ovvero tutto quello che entra nel primo sopra va anche nel secondo e poi un altro sotto un altro sotto un altro sotto di nuovo il principio degli omini di kart se vogliamo ma portali coni imbuti uno sopra l'altro fino a che l'ultimo portale in fondo in fondo in fondo non c'è pavimento ovviamente piccolissimo e a quel punto doveva non si sa poi poi prende il pacchetto tira fuori una sigaretta se la mette in bocca si avvicina e nel fare per accenderla cade dalle labbra e va nel primo portale secondo terzo quarto quinto sesto settimo ottavo di uno decimo lo fa apposta non fa a caso che succede è come se le venisse voglia di buttare a così a cascata tutte le sigarette che ha fumato tutte le sigarette del passato tutti i posaceneri pieni del passato tutti i pacchetti di sigarette del passato vengono proprio inglobati da questa catena di lavandini chiamiamole tutte le sigarette una nuvola di cilindrini bianchi e gialli vengono dal paese che non c'è non ci sono più sono state bruciate ma e vengono lo stesso vengono da tutti quegli anni quei giorni quei mesi quelle occasioni tutte quelle sigarette fumate da incazzata da felice da serena da apatica da appena sveglia dai l'ultima poi vado a dormire quindi sta dai in compagnia una sigaretta ci sta ma sei antico che noia fuma la fuma anche tu Michela tutte ognuna un nome ha una data un'ora che la accompagna come un fumetto vanno tutte dentro mi fa vedere quasi a ritroso la prima tipo era una ragazzina sembra forse fa vedere una delle prime sigarette che ha fumato poteva avere 14 anni una cosa del genere sì sì dice di sì Michela forse anche prima accidenti scraziata 12 lo spero non prima di 12 forse anche prima di 12 andiamo alla prima sigaretta che poi è la più importante se lei non ha mai smesso è quella che si porta dietro tutte la prima mi fa vedere che ha tossito non sapeva minimamente come gestire la cosa avvolta da una nuvola di fumo e tossisce ed effettivamente sembra una bambina però tipo come se fosse poi passato del tempo mi fa vedere quella tossisce passa un po' di tempo penso sia questa la prima però tipo mi dice 11 10 11 possibile così presto sì possibile stavo certo di sì 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 10 11 ma hai mai smesso michela mai si è smesso ok per 5 10 anni 5 10 poi ripreso più volte va bene quindi non è impossibile come lo chiamiamo questo imbutaio di portali i portali imbuti lavandino infinito non so ok bene tutti via i portali andiamo a cluster quello che michela sapeva già fare oggi è stato sottolineato potenziato aumentato è come se mi facesse vedere una piramide di cenere quindi non ci sono più neanche i mozziconi di sigaretta non c'è neanche più il posa cenere no è rimasta solo la cenere impalpabile impalpabile cenere nel cluster dici cosa fa? toglie? lascia? aspetta che non ho capito che cosa fa perché è come se creasse una specie di pellicola intorno a a questa cenere come se appunto lei non volesse più avere a che fare con questa e crea come una pallina di involucro di plastica contenente questa cenere e la lancia così nel portale definitivo come se giocasse a palla canestra con questa pallina e il portale definitivo al canestro e quindi finalmente il cestino non è più lei no il cestino della spazzatura il cestino della spazzatura è il portale definitivo ottimo lei crea portali e ad eternum creano ad eternum suo nuovo unico definitivo allora si scioglie i capelli ed è come se apre le braccia verso il cielo è come se misurasse in qualche modo il sole ed è come se riuscisse in questa specie di fare un copia e incolla del sole e quindi creare un ad eternum che è pari al sole quindi sposta le sue braccia dal sole lateralmente ed ecco così che ha copiato e incollato l'ad eternum fantastico ha creato un sole avatar c'è qualcosa vedo come un mucchietto di unghie tagliate residui così insignificanti sono solo residui teniamoli no 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 è come se avesse voglia di fare pulizia prende proprio uno spazzolino lo mette dentro un sacchettino è proprio in vena di pulire e butta via prima il sacchettino contenente le unghie il residuo delle unghie e lo butta nel portale definitivo e poi è come se molto molto rapidamente volesse dare un colpo di spugna a tutto questo arredamento dell'avatar e butta e butta via anche la spugna dentro il portale definitivo benissimo all'eterno ma anche qua vuole fare la luna dopo il sole c'è la luna no la luna no dai una pigna tipo una pigna d'argento sembra quasi questo all'eterno una pineale praticamente si leone mantide granchio 2dl cestino della spazzatura fragilità emotiva tutto ancora lì no no impianti no neanche come si chiamava il progetto album dei ricordi c'è ancora è un album dei ricordi diversi è la sua vita che lei non può dimenticare ma è visto con altri occhi frequenza vibrazione di michela 330 consapevolezza 200 ps e 61 vite 1012 cervello 11 quasi suscettibilità ipnotica circa 66 allora 11 è un grande dato molto raro cosa può fare michela con questo 11 portali aperti ad eternum base poi non so in che senso se lei è in grado di trovare l'acqua parla di acqua abdomante sì e poi è come se fosse in grado con un'opportuna centratura in alcuni momenti di fare proprio una scelta sulla sua meta di viaggio che è proprio la scelta ottimale in quel momento perché le darà proprio delle esperienze evolutive importanti quindi sa proprio decidere e poi dopo poco al riscontro effettivo che quel viaggio è stato davvero fondamentale ottimo lo abbiamo deciso noi è quello che diceva il figlio giusto alla madre certo certo era questa la frase sì ok messaggio di Michela al marito il terzo è il migliore o non c'è il 263 messaggio di Michela se stessa ho vissuto l'inferno questa è la vita più importante di tutte le mie vite passate ok Michela di fatto non ha non aveva dei grandi punti e non ha dei grandi obiettivi da raggiungere tranne vabbè la vendita di una casa che adesso deciderà di vendere oppure no ma non è abbastanza marginale è a posto cosa vuole fare adesso la sua anima è già praticamente bruciato quasi tutte le tappe no tutte tutti i problemi le ha già superati le ha già vissuti ha avuto una vita difficile lacrime e sangue e adesso vuole vivere tipo gli insegnamenti perché lei ha imparato molto moltissimo in questa vita vuole vivere all'insegna di tutto ciò che ha preso anche di piccole cose si mi fa vedere proprio come se fosse una rosa di damasco lei non so perché mi dà questa rappresentazione bellissima profumata come se adesso fosse più giovane di quando era giovane si è che la rosa da mascena viene anche usata proprio tipo anti age così mi fa vedere proprio come se lei avesse questa seconda giovinezza che è più intensa della sua diciamo reale giovinezza a me stava venendo la sabbia perché sì perché anche io la vedo come una rosa nel deserto lei guarda la sabbia lei che si domanda cos'è la sabbia ha dei granelli sì perché mi fa vedere la sabbia quanto sia in qualche modo simile a lei nel suo atteggiamento anche strano cioè che si comporta come un liquido quando è solida quindi con i granelli li vedo all'interno di una clessidra che scandiscono il tempo quando è bagnata e gli puoi fare delle palle gli puoi far creare delle costruzioni quando è bagnata si comporta come un solido quindi questi due paradossi questi due polarità come si invertono è su questo tipo di esperienze che può lavorare maggiormente su se stessa lei mi faceva vedere in camma che vuole volare vuole andarsene verso la sorgente o dovunque voglia mi fa vedere molto l'elemento vento questo sì quindi capisco che lei voglia volare in questo senso come se effettivamente il vento le desse anche questa sensazione del volo della libertà della leggerezza e della non separazione con tutto quanto bene volare prenderà un aereo X tra i mesi e le settimane Y quando farà la valigia che succederà con queste nuove condizioni come se si dicesse a se stessa no panic e dopo qualche secondo solo di sclero poi si calma e fa con ordine e rapidità questa valigia la salutiamo immagine finale non ci vuole creare un ad eternum così per piacere personale eh sì la vedo già come se fosse appunto nel deserto ha tipo questi veli un po' anche per proteggersi forse dal vento e lo fa tipo in una notte stellata l'ad eternum ed è costituito da un agglomerato di stelle c'è il suo marito insieme a lui a lei e lui è in tenda che l'aspetta disconnettiti da tutto e tutti e torniamo grazie a tutti